La scritta dove ce l'hai messa questa? L'hai messa tu o l'hai fatta messa? Dove l'hai fatta messa eh? Quanto c'è spesso la scritta? Questa è stuola, 130. Ah! Mi cambia posta questa, non mi sembra di sembra. Eh, gliel'ho detto. 125 metri, ieri non lo muovevo da quanto era grande. Ma lui vuole... Allora lui dice 125 metri, questa è una 105-120 kg. 125? Io, 98. E non è grande. 100 che è grande, è 20 kg sopra. Eh? Che grande. Ma parte da 105 kg questa. Ma 98 tu ha senocarico? No, peso mio. Ah, allora va bene. Io... Che peso tu? Ah no, no, allora va bene. Ma anche lui va bene. Perché ha 15 kg da salsatura. Ma anche lui va bene. No, no, no. Io sono 92, non sono 93. Dai, non si guarda che sta passando lui. Dai che c'è la tecnica qui di fronte! E lo so che va bene, però sfrutta un po' di come... La radio! Parla con la radio! crabio! Si trovo almeno.... classica a medio ciclo di io. He, uffi. No, come vazza! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Come hai fatto Adelan prima? Tu l'hai... No come cazzo funziona perchè non vedo niente vabbè ragazzi vabbè ragazzi voglio scappare troppo per recuperare la macchina adesso non va bene però non vi state troppo lontani l'ascoltone no perchè però non si sale se poi senti che c'è qualche tema un po' più distante va bene ma non vi state sennò veramente vi fate una pranzia dei primi minuti di minuto e non serve un frano poi il problema è che io mi sto diventando davanti a io a serrare è serrato già guarda vuoi vedere no dai ma no dai ma io lo mettiamo più più piottone e lì dove c'è lui lì c'era bella taglia no 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 il primo volo no no il primo volo triggi porca vacca non scendere triggi salvella carmine sali cazzo carmine tira fuori le palle no 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 guarda è già in atterraggio il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.